La musica è sacra, chi non ama la musica non ama l'amore, chi non ama la musica non ama se stesso. L'incontro con Enzo del Re ti cambia la vita. Allo stesso modo una pianta prende dai minerali i colori che trasmette attraverso il tronco e i rami ai fiori, quindi non ci sono colori dei fiori senza i colori dei minerali.